Ciao Roberto! Sì. Mi chiedevi che hai stato fatto un po' di oggi? C'è stato colpito tu a oggi, intende bene sulle decisioni? Siamo riferiti, su football, sui risultati, sì. Sì, perché giochiamo un grande gioco nella prima parte e nella seconda parte in un gioco più era diverso, ma abbiamo iniziato il gioco in una grande forma. Abbiamo conceduto tre gioco, tre stupide gioco. Il terzo è incredibile perché, ok, possiamo essere molto piccoli, ma potremmo potremmo spettare meglio e potremmo spettare con più attenzione in questa situazione. Perché potremmo trovare il gioco nella seconda parte in molte situazioni, prima di concedere il gioco con il gioco con l'Adingra, con l'Adingra in l'altra parte. Ho cambiato 4 giocatori, 4 giocatori, perché Lallana, Baleba e Facundo Bonanotte non potrebbero finire il gioco. Ma se facciamo questo tipo di errore, perdiamo il gioco. Ma se facciamo questo tipo di errore? No, non voglio parlare del gioco. Non, non voglio parlare del gioco. Non, non voglio parlare del gioco, ma non ho visto nulla. Non ho visto nulla. Non ho visto nulla. Non ho visto nulla. ogni decisione. Il gioco sono persone come le gioco e possono fare un errore. Non ho visto se fosse un errore o non. Se il penalti di Modric è chiaro o non. Non ho visto. Roberto, hai deciso di non parlare del gioco? Perché sono il gioco? Perché sono il gioco? Perché sono il gioco? L'ultima volta ho parlato del gioco del gioco, non la decisione. Perché se vuoi parlare del gioco, Pallini ha fatto la red card con Fulham. Non ho detto nulla. Ma il gioco, una volta ho detto qualcosa, non è vero, ma è la mia idea. Scusate. 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 Facundo, è quello che vi sarebbe waiting for? Scusate. Scusate per Facundo, perché ha imporato di giocare tanto tempo, ma non ho visto quanto tempo sia per la mia situazione. Ad Ingra è usato a finire il gioco e Facundo, per Baleba è lo stesso, per Adam Lallana è lo stesso. Ho cambiato per i giocatori, ma non perché erano giocati, ma per le condizioni fisiche. E Jack Ingerswood, perché aveva il gioco il gioco e ho la right esperienza per capire se potrebbe essere il secondo gioco il gioco. Ma come si può fare il gioco per Facundo? Sì, ha scato un grande gioco, ma ha giocato molto bene. Credo che è stato uno dei migliori giocatori nel suo tempo in Brighton. È migliorato. Se non gli giocatori, se ti dà loro la chance di giocare, se hanno un talento, possono mostrare la qualità. come Jack Ingerswood, Facundo, Baleba. Baleba ha giocato un altro grande gioco, come in Liverpool. e in Italia, come in Sofia? Roberto, posso dire una domanda a quel momento? Alla prossima. Come si è pure in futuro, come in Italia? Come in Italia? D'accordo, ho parlato con i giocatori per la congratulazione del gioco, ma ho non guardato. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I'm sad and I'm disappointed.